Vi presento il robot aspirapolvere più evoluto al mondo. Non è una spazzatrice come le altre macchine, è un vero aspirapolvere. L'aspirapolvere automatico più potente che possiate acquistare. E anche il più intelligente. Con la sua tecnologia laser avanzata, Nito scansiona e crea una mappa della stanza, aggiornandola mentre procede. Mentre gli altri aspiratori urtano dappertutto, Nito esegue una pulizia mirata e metodica, spostandosi da una stanza all'altra in una frazione del tempo utilizzato dagli altri dispositivi. Aggira sistematicamente gli ostacoli lungo il percorso senza urtarli. È a suo agio su tutte le superfici ed evita le aree in cui tu non vuoi che vada. Riconosce i gradini e li evita. Nito ha un profilo ribassato così aderente al pavimento che stana anche i gattini di polvere nei posti più inaccessibili. Nito può vedere persino nel buio e trova lo sporco ovunque si nasconda. E poi, con il suo potentissimo filtro, aspira più sporco, polvere, detriti e peli di animale di quanto non riesca a fare ogni altro aspirapolvere. La grande spattola e le spazzoline laterali di Nito si muovono a filo delle pareti e debattiscopa, raggiungendo gli angoli più nascosti dove gli aspirapolveri rotondi non possono arrivare. Se sta per finire la carica, Nito è così geniale che turno indietro alla base, si carica e riparte esattamente dal punto in cui si era fermato. Nito funziona come lo si programma, per la pulizia quotidiana, per una rapida pulizia mirata o per pulire all'istante diverse stanze. Poi torna immediatamente al punto di ricarica, in attesa della prossima missione. Nito aspira ogni centimetro, mentre gli altri girano a vuoto nella polvere. Che pulizia, Nito!